Siamo arrivati al livello 13 e questa volta ho cambiato formazione, nel senso che utilizzo sempre i gulli, perché mi danno vita, ma adesso iniziamo ad usare i 5 stelle. Mariana è uno stregone, quindi può essere maledetta 5 volte, Elena, ahimè, è un combattente, quindi una volta che viene maledetta la smetto di usare. E userò Anna, che è viola, per dare i demoni e anche lei può essere utilizzata per 5 maledizioni. Magari ci mettiamo anche meno tempo, visto che dobbiamo anche imparare a fare questi livelli velocemente, quindi cerco di spiegare meno cose e di andare più veloce, sperando di non morire. Allora, ricordiamoci sempre che io devo far skillare gialli, rossi e viola, quindi tolgo quello che non mi serve. Ok, allora attenzione, aspetto perché voglio prima far arrivare anche Elena in fase di skill. Ok, allora, eccoci qua, tac, tac, quello in mezzo dovrebbe morire, ok, allora andiamo qui in fondo, facciamo così. Sempre i due gulli, ok, andiamo. Allora, tiriamo su questo, solo che, ok, perfetto, mi sono salvato, allora andiamo, facciamo così, così, così. Questa cosa che gli eroi skillano a fatica con nuovo aggiornamento è fastidiosissima, spero che la sistemi, adesso ci sono troppi verdi in giro, voglio eliminarne un po'. Anche blu, via. Ok, adesso io devo far salire questo rosso, non ce la farò mai, ma... Tra l'altro è su Elena, come faccio? Ah, però posso fare così. Perfetto. 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 E così. Maledizione sventata. Vai, Anna, vai, vai! Ok, adesso devo far caricarmi anche l'altro gulli. Esatto. Esatto. Ed Elena. Elena, vai. Ok, perfetto. Siamo i boss, carichiamoci tutti. Andiamo in mezzo. E anche Elena e Anna saranno carichi, una volta che faccio skillare questi tre. Perfetto. Andiamo anche con loro. Alla grande, andiamo, adesso si ricaricano di nuovo tutti. A tutti no, ma i cinghiali sì. Perfetto. Sentite, io carico Elena, perché anche qui dura un solo turno l'abbassamento difesa. Ok. Allora, adesso andiamo qua con i verdi. Benissimo, benissimo. Ok. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mi ha avvelenato, quindi tolgo veleno. E allora? Il primo è andato. Tutti sti verdi. Uno, non mi sono neanche accorto del libro, del libro, del libro di là. Qui non ci sono verdi, vabbè, cioè non ci sono verdi, non ci sono tessere che mi servono. Un altro numero. Un altro numero. Un altro numero. fantastico dammi qualche emblema druido no perfetto